Buongiorno, benvenuti ai tanti nuovi iscritti al canale. Sono davvero contento di questa crescita, sono davvero contento che tante persone abbiano deciso di darmi fiducia sia su Kikomori Italia sia qua su questo canale che, come ho già detto, è più attivo. È più attivo perché spazio molto di più nelle tematiche rispetto di Kikomori. Oggi voglio parlare di un tema che ho già trattato, ovvero quello dei guru, relativamente ad un altro tema che sempre ho trattato, quello della morale e dell'ipermoralità. E lo faccio a partire da una storia che mi ha consigliato Alba su Instagram. Grazie Alba, ha deciso lei di essere citata. Dovevo farla ancora partendo da un contenuto di Cima di Rapa, che è purtroppo, per il mio punto di vista, il punto di riferimento italiano in questo momento sui social per quanto riguarda la parità di genere e il femminismo, e quindi voglio dimostrarvi come ci sia molto di tossico nel suo pensiero e molto di pericoloso. Qualcuno potrebbe sottovalutarlo, qualcuno potrebbe pensare che io stia esagerando, però adesso vi argomento. Questa storia inizia con un post di Fedez e della Ferragni, dove si vedono loro in evidente sovrappeso, giocando sull'ironia che dopo tanti giorni di quarantena, se non fai attività fisica, diventi crasso. Ebbene, Irene Fakeris, appunto Cima di Rapa, ha preso questo posto per parlare di body shaming, argomento di cui ho parlato anch'io, dicendo queste cose. Ve le faccio sentire direttamente da lei, così non le metto nessuna parola in bocca che non ha detto lei stessa. Credo che serva un contenuto che possa rimanere, e quindi lo faccio. Voglio parlare di tutti i meme che stanno girando in queste giornate, di alla fine di questa quarantena saremo tutti grassi, se non stiamo lontani dalla cucina usciamo di casa rotolando il 3 aprile, eccetera eccetera. Non ultimo il post che mi ha fatto dire ok forse dico qualcosa, il post di Fedez con lui, Chiara Ferragni e il figlio ingrassati con Photoshop, haha alla fine della quarantena noi. Allora, questa cosa si chiama grassofobia. Questi meme che fanno ridere tante persone fanno stare molto male altre persone, altre persone che hanno un fisico che è come quello dei meme. Perché per voi è, haha alla finita la quarantena se non stiamo attenti diventiamo così. Ecco ci sono delle persone che sono già così, erano così anche prima che cominciasse la quarantena. E non si trovano particolarmente a loro agio a diventare la battuta del momento. Non che le persone grasse non siano sempre state prese in giro, che è cominciata adesso che c'è la quarantena, però adesso sta girando questa battuta. Io devo dire due cose. La prima, chi mi dice no ma questa cosa non è offensiva, no ma non l'hanno fatto con l'intento di offendere, io ricordo la cosa che continuo a ricordare continuamente in quasi tutti i miei contenuti. Intenzione ed effetto prodotto non sempre coincidono. Tu puoi anche non avere l'intenzione di offendere delle persone. Se però nei fatti queste persone si offendono, è una tua responsabilità trovare una soluzione. Perché? Perché anche se non è colpa tua, nel senso che non lo hai fatto con l'intenzione di far starmare l'altro, è un'azione che hai fatto tu e quindi sei responsabile di quell'azione in quanto artefice. Quindi smettetela di dire eh ma loro non l'hanno fatto per offendere le persone. Perché alle persone offese interessa fino a un certo punto che questo non l'abbia fatto apposta. Certo, se lo hai fatto apposta penso cose brutte di te. Se non lo hai fatto apposta e io ci sono rimasta male lo stesso, non è che io smetto di rimanerci male perché tu non volevi che io rimanessi male. Che le intenzioni non sono tutto. Le intenzioni non possono cancellare le emozioni delle persone. Intenzione ed effetto prodotto non sempre coincidono. Quindi voi magari volete fare una cosa divertente che faccia ridere invece un sacco di gente si offende. Questo è un problema ed è un problema vostro perché siete responsabili di quell'azione perché l'avete fatta voi. Non l'avete fatto apposta? Bene. A maggior ragione se non volevate far star male qualcuno e invece qualcuno è stato male fate qualcosa per migliorare la situazione. Prima considerazione su quanto detto in questa prima parte del video. Che cosa penso? Che questa è una legge morale che come sappiamo bene non esiste una legge nella moralità. La moralità ha due caratteristiche che la rendono ingovernabile da un punto di vista legislativo. La prima è personale. Non esiste il bene o il male. L'abbiamo visto anche nel podcast sul treno, sul dilemma morale del treno. Ognuno aveva una moralità diversa. Ognuno rispondeva in modo diverso. Quindi abbiamo appurato in quel podcast che non esiste una morale universale. Un bene e un male oggettivo. E che ogni volta che cerchiamo di trovare una legge morale automaticamente falliamo. Stiamo semplificando. Perché la morale è qualcosa di personale. Che poi collettivamente costruisce una morale collettiva. Vuol dire che più persone condividono una moralità simile. Ma non significa che quello sia il bene o il male. Perché se prendiamo per esempio la moralità che c'era nel periodo nazista. Se molte persone sostenevano che fosse moralmente giusto eliminare le persone geneticamente inferiori. Non significa che quello fosse il bene o comunque la cosa giusta. Era una moralità dominante in quel periodo. Poi l'altra cosa è che la moralità è sempre relativa. Noi non possiamo stabilire in quanto singoli delle leggi morali che vadano bene per qualsiasi contesto. Che siano quindi decontestualizzate. Dere relativizzate. Dire per esempio uccidere è sbagliato è il tentativo di creare una legge morale che sia appunto decontestualizzata. Non dice uccidere in quell'occasione, in quella circostanza è stato sbagliato. È stato quindi bene o male. Ma dice uccidere è sbagliato. Quindi si presuppone che uccidere è sbagliato anche qualora ci fosse per esempio un dittatore sanguinario che sta opprimendo un'intera popolazione con qualsiasi tipo di sofferenza. Quindi io qualora avessi la possibilità di ucciderlo e porre fine alla sofferenza di milioni di persone non potrei comunque farlo perché uccidere è moralmente sbagliato. Se una persona è in dubbio su un'azione, se sia morale o meno, giusto o sbagliata, cosa deve fare dal momento che non esiste una moralità oggettiva? O accetta il fatto che non esiste una moralità oggettiva o può andare da questi guru e chiedere a loro se questa cosa è giusto o sbagliata. E questi guru, detentori della verità, diranno è giusto o sbagliato in base alla loro moralità. Quindi portano quella che è la loro visione del mondo a dominare. Voi direte, ma questa visione del mondo è positiva. Quindi va bene, è quello che si dice per esempio della chiesa. Quando uno critica la chiesa si dice, eh ma la chiesa fa del bene, perché devi criticarla? Anche le moralità apparentemente positive possono diventare negative in taluni contesti, soprattutto se diventano dogmi. Entrando poi nel merito di questa legge morale, capiamo quanto possa essere assurda. Dire se tu fai qualcosa e qualcuno si offende è tua responsabilità e quindi non lo devi fare e devi rimediare. È una cavolata assurda, come tante purtroppo gliene ho sentite dire e ho commentato anche in video precedenti. È una cavolata. Perché cosa vuol dire? Qualunque cosa io dico faccia qualunque cosa, se c'è qualcuno che si offende è sbagliata, a prescindere. La mia azione è sbagliata. Ma allora non si può più dire fare niente. Qualunque cosa potrebbe danneggiare la morale di qualcun altro. Anche dire che il fascismo fa schifo, potrebbe danneggiare la moralità di alcuni. Quindi di per sé a livello logico non ha senso, perché veramente potrei dire qualunque cosa e qualcuno potrebbe offendersi. Questa modalità di pensiero sfocia inevitabilmente in quella che io chiamo ipermoralità. Se non sapete di cosa sto parlando vi rimando a dei podcast e dei video precedenti dove parlo appunto della moralità inutile. L'ipermoralità non è altro che una moralità eccessiva, che non è più finalizzata al governare una società che cerca di non danneggiarsi a vicenda e che quindi all'interno di delle regole morali fa sì che gli individui non si danneggino eccessivamente a vicenda e che ognuno abbia la libertà di poter esprimere il proprio pensiero senza però appunto fare delle azioni dirette, concrete, che vadano a danneggiare qualcun altro. Questa regola morale si potrebbe riassumere in La tua libertà finisce dove inizia la libertà di qualcun altro. Che è un po' la regola morale che sta viaggiando in questo momento e che viene più spesso spacciata come la verità. Però anche di questo ne abbiamo già parlato. Tu non puoi dire quando qualcosa danneggia qualcun altro. Cioè non lo puoi dire con certezza quando una tua azione, qualsiasi azione danneggi qualcun altro. Per esempio io carico sul mio social una foto con una ragazza o io al mare e quella foto danneggia una persona che guardandola inevitabilmente si sentirà in difetto perché magari non alla ragazza o perché magari a casa annoiarsi. Cosa significa? Che io non dovrei farlo? Cioè dovremmo impedire a chiunque di pubblicare foto della propria vita perché questo potrebbe danneggiare qualcun altro? Capite che non ha senso questo discorso. Perché non esistono delle linee morali nette e se noi andiamo a esagerare troppo la nostra attenzione morale, sfociamo nell'ipermoralità. Cioè in una moralità eccessiva che diventa opprimente, che diventa stressante, che ti porta davvero all'annullamento dell'umanità. Perché l'essere umano non può essere puramente razionale e quindi ipermorale, ma deve essere in parte istintivo, deve essere, deve conservare una minima parte di istintualità perché altrimenti diventa nullo. Distruggi la creatività, distruggi la libera espressione, l'umorismo, le battute, il black humor, distruggi qualunque cosa che secondo te può danneggiare potenzialmente qualcos'altro. Lo stesso rap, le canzoni, vai praticamente a ingessare la società e a impedire qualsiasi forma di espressione perché potrebbe in teoria ledere la sensibilità di qualcuno, di chiunque, perché poi appunto ognuno ha una sensibilità diversa. Quindi come fai a sapere se stai ledendo la sensibilità di qualcuno o no? Chi lo decide? In questo caso i guru, coloro che si ergono a portatori di questa moralità e che quindi a quel punto dovrai andare a chiedere a loro se stai facendo una cosa giusta o sbagliata. E infatti è quello che succede, se voi andate a vedere i commenti sotto questo video su IGTV del suo profilo Instagram ci sono persone che dicono ma guarda io non sono d'accordo però probabilmente sbaglio io. Certo perché lei è il guru quindi se tu non sei d'accordo con quello che lei dice che è portatrice della verità sicuramente stai sbagliando tu. Non è che può darsi che lei stia sbagliando e abbia fatto un ragionamento semplicistico. Sicuramente stai sbagliando tu. Quindi addirittura il tuo pensiero critico ti porta in prima battuta a dire sto sbagliando io quindi dimmi cosa sto sbagliando. È questo l'atteggiamento che hanno i follower di Irene Fakeris ed è questo l'atteggiamento che lei vuole nei suoi followers perché il linguaggio del corpo dice tutto. Dice di un'arroganza, di una appunto sensazione di sapere lei come funziona e quindi che ce lo deve dire. Quindi noi dobbiamo andare ad abbeverarci della sua conoscenza tramite i suoi profili social e quindi tramite i suoi prodotti eccetera eccetera. Lo dice nell'atteggiamento del corpo, lo dice nel linguaggio, nelle espressioni facciali, nelle risate supponenti. In tutto questo che appunto dice molto di più di quello che lei cerca di razionalizzare con le parole ti fa capire che lei si sta ponendo come un guru. Quindi non sta mettendo il dubbio, non sta facendo un ragionamento, non sta dicendo condivido con voi il mio ragionamento, la mia moralità, il mio modo di vedere le cose e poi fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, cosa che spesso lei censura tra l'altro da quello che mi dicono. No, l'atteggiamento è proprio quello di guru. Io so, vi dico, se voi la pensate diversamente state sbagliando. Che è un po' l'atteggiamento di tante neo-femministe, cioè io so come funziona la società, so che cosa state sbagliando voi. Ve lo dico, se non lo capite è perché siete corrotti da retaggio patriarcale, siete dei maschilisti, non siete abbastanza aperti, c'è tutto quello che loro possono addurre per giustificare il fatto che voi non siate d'accordo con loro. Ed è questa una delle principali armi del neo-femminismo o del femminismo tossico, chiamatelo come volete. Ma continuiamo perché c'è un'altra parte del video che secondo me è ancora assurda nel ragionamento, però andiamo a vedere. Seconda cosa che voglio dire, che mi viene detta di solito quando vedo queste cose, nello specifico sul post di Fedez e Chiara Ferragni dove sono stati ingrassati con Photoshop, la gente dice ma non stanno prendendo in giro le persone grasse? Cioè non è che hanno messo la foto di una persona grassa e l'hanno presa in giro, ci sono ingrassati loro, quindi stanno prendendo in giro loro. Allora vi chiedo di fare questo sforzo. Immaginate, immaginate i Ferragni fare lo stesso post ma anziché ingrassarsi con Photoshop, mettere la vostra faccia al posto della loro. La vostra faccia photoshopata sul loro corpo e l'ideascalia sotto, se non stiamo attenti, se non ci prendiamo cura di noi, se non facciamo questo e questo e quest'altro, alla fine della quarantena ci ritroviamo così, con la vostra faccia sopra. Non stanno prendendo in giro voi perché non hanno messo la vostra foto, è il loro corpo però haha per ridere con Photoshop hanno messo la vostra faccia dicendo minchia se non stiamo attenti finiamo così e ci siete voi. Ora, sareste così tanto propensi a dire vabbè ma non è che lo fanno per prendere in giro me perché non hanno messo una mia foto, hanno messo una foto loro con la mia faccia. Ecco è la stessa identica cosa. Che senso ha questo ragionamento? No, ditemelo. Ditevi voi che senso ha questo ragionamento. Fate finta che Fedez e la Ferragni non si sono ingrassati loro ma prendono una vostra foto, la ritagliano, ne ritagliano il volto e la mettono sul loro corpo ingrassato. Cioè fare questa cosa è uguale che mettere una propria foto ingrassata? Ma che senso ha? È ovvio che se io faccio qualcosa su di me, dico qualcosa, dico una mia opinione senza citare nessuno espressamente, senza fare riferimento neanche casuale a qualcuno in particolare e questa mia opinione, questo mio modo di fare, questa mia battuta, questo mio sfottò, ferisce qualcuno, è ben diverso che se io prendo la foto di una persona in particolare, la ritaglio e prendo lei di mira, quella persona lì. Adesso non voglio dire che in tutti i video lei fa dei ragionamenti sbagliati, però io ho visto alcuni video e in tutti i video ci sono dei ragionamenti veramente assurdi, inconcepibili, che poi appunto nessuno mette in discussione perché o i commenti vengono censurati o i suoi follower sono talmente pendenti dalle sue labbra che dicono ma secondo me questo ragionamento non torna tanto, però se lo dice lei ci avrà ragione perché lei è l'autorità su questo tipo di questioni, lei ha la verità morale su come funziona la parità in Italia o, non so, nel mondo e quindi se io non sono d'accordo con il suo ragionamento probabilmente sto sbagliando io, probabilmente c'è qualcosa in me che non torna e non riesco a fare i collegamenti giusti. Ma questi sono i collegamenti giusti, cioè questa seconda parte del video è molto più immediata, penso che non ci sia nemmeno molto da argomentare, penso sia molto più interessante invece la prima parte il discorso su una morale, su come appunto ci sono persone che cercano di creare una moralità oggettiva, una moralità oggettiva che non esiste, così come non esiste un modo giusto di vivere, ne ho parlato in un video precedente sui guru, su tutti i guru che vogliono dirvi come si dovrebbe vivere, non esiste, non c'è uno scopo nella vita, non c'è uno scopo oggettivo, non c'è il bene o il male, non esistono, vorremmo averli perché come esseri umani noi abbiamo bisogno di semplificare la realtà, quindi avere qualcuno che ci spiega la realtà, che ci dice come funziona e ce la dice chiaramente con delle regole precise, ci fa anche comodo perché ci aiuta a non pensare e a non dover agire in un mondo caotico assolutamente sregolato, senza appunto regole morali, solo le leggi fisiche sono quelle a cui noi dobbiamo rendere conto, ma le regole morali di per sé non ce ne sono, ce ne cerchiamo di dare noi, però appunto ci piacerebbe che ci fossero, perché sarebbe tutto più chiaro, sarebbe tutto più semplice, sarebbe tutto più immediato, ma soprattutto piacerebbe a queste persone, a questi guru che hanno guadagnato fama su una moralità presunta, giusta, che è quella che dicono loro e che quindi, ripeto, se qualcuno avesse dei dubbi sul proprio agito morale, dovrebbe inevitabilmente riferirsi a loro, perché solo loro potrebbero sentenziare in ultima analisi se il nostro agito morale sia giusto o sbagliato, perché sono loro che lo sanno. Può darsi che a volte sembri anch'io così, ma non mi stancherò mai di ripeterlo, non voglio farlo, voglio semplicemente dire la mia opinione, quello che io penso, quello che è il mio ragionamento, che può essere giusto o sbagliato, può essere in parte giusto e in parte sbagliato, può essere raffinato, complesso o semplicistico, ma è un ragionamento. Poi quello che mi interessa vedere è anche i vostri ragionamenti, quelli che mi lasciate nei commenti, quelli che mi scrivete su Instagram. Vi prego, vi prego, diffidate sempre molto, a prescindere dai ragionamenti, da chi si pone nei vostri confronti come il detentore di una verità superiore, come un guru, perché sono pericolosi. Vi potreste ritrovare a fare qualcosa che non vorreste fare, in cui non credete veramente, solamente perché ve lo dice qualcun altro.